Era uno dei punti cardine del programma elettorale della lista guidata da Cristiano Montagnier, sindaco di Mussolente, e l'obiettivo è stato centrato. L'inizio del 2021 per i misquilesi si apre con una bella novità, l'arrivo della fibra ottica che consentirà connessioni più rapide, stabili ed efficienti. L'infrastruttura è già stata completata ed è costata oltre un milione di euro a un grande operatore di rete del mercato nazionale che ha già completato il collaudo. L'85% delle utenze private, aziendali e pubbliche potranno collegarsi alla rete con prestazioni elevatissime. Grazie.